Buongiorno a tutti e buon lunedì ragazzi, oggi parliamo brevemente della questione Cristiano Ronaldo e della richiesta dei suoi legali per quanto riguarda i 20 milioni di euro di stipendi arretrati e non ancora pagati. C'è chi è che dice, ma Cristiano Ronaldo vai a chiedere i soldi alla Juventus in questo momento, infatti è stato messo all'agonia da tantissimi tifosi della Juventus. C'è chi invece dice, effettivamente se questi soldi si debbano dare, perché non darglieli? Sono ragionamenti che valgono tutte, vale la pena di prendere in considerazione tutte e due, una da parte del tifoso innamorato della propria squadra, della propria maglia, della propria bandiera e dall'altra parte invece chi ragiona con senso logico e dice, boh, quei soldi effettivamente appartengono a lui, dovevano essere dati e devono essere dati. Ora, siccome la Juventus sta passando un momento un pochettino così critico per quanto riguarda la questione economica, io avrei pensato da tifoso, facciamo una colletta un po' tutti, tutti noi juventini, mettiamo da parte tutti, anzi diamo a tutti quel piccolo gruzzolino che abbiamo da parte, che per noi sospici, ma per Cristiano Ronaldo, visto che i legali ne hanno fatto richiesta, servono, mettiamo tutti assieme questi soldi e gli rimandiamo a Cristiano Ronaldo che come sappiamo sta giocando il mondiale, quindi non si può per forza di cose occupare della questione, infatti mi sa che questa notizia è una notizia che è buttata lì un pochettino per alimentare quel fuoco che sta ardendo contro la Juventus, qualsiasi cosa fa notizia, sappiamo, comunque prendiamo per vero la notizia che Cristiano Ronaldo abbia chiesto questi soldi qua, io do la mia parte, Peter Pan bianconeo dalla sua parte, l'altra qua, verso il vatenario di LOL, bello pieno di monetine e di soldini di carta, non so quanto ci saranno ragazzi poi, se li conta Cristiano Ronaldo, voi fate lo stesso, mettete un pochettino di soldi dentro un bicchiere, da qualche parte, dentro un sacchettino e glieli mandiamo, aiutiamo la società che in questo momento a sentire dire da tutti i telegiornali, da tutti i giornali, è in fallimento, in pieno fallimento, almeno noi tifosi facciamo la nostra parte, facciamo vedere che siamo veramente attaccati alla maglia e diamo una piccola percentuale, alla fine dai l'1% l'8x1000 alla chiesa cattolica, noi vi vuoi dare 4 soldi a Cristiano Ronaldo, poverino che non ce la fa arrivare a fine mese, a fine mese, quindi ragazzi, oggi lunedì si apre e si chiude con la notizia di Cristiano Ronaldo che non può comprarsi il pane e noi facciamo qualcosa per dargli una mano, detto questo ragazzi io vi invito a iscrivervi al canale, e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, aiutiamo Cristiano Ronaldo, un saluto dal vostro Peter Pan bianconero, ciao io!